Ma mister, cuore, determinazione, cinismo, organizzazione, sono questi gli ingredienti chiave di questa vittoria? Assolutamente sì, hai detto bene tu, abbiamo fatto una gara di corsa, aggressività, determinazione che ci voleva perché abbiamo incontrato un avversario fortissimo che è difficilissimo da affrontare. Mentre il mister riceva giustamente, giustamente, pacca sulla spalla dal nostro CEO Espoor Giuseppe Marotta, a parte un palo nel secondo tempo avete concesso poco o niente al Barcellona, un clean sheet, questo è un bellissimo segnale. Assolutamente sì, perché eravamo in un momento nel secondo tempo che ci siamo abbassati, abbiamo perso un po' di campo però abbiamo avuto delle ripartenze, abbiamo sbagliato l'ultima rifinitura e facendola bene avremmo potuto segnare il secondo gol. E poi quanta consapevolezza vi dà in vista la gara di ritorno che è fra una settimana? Tanta, adesso prima abbiamo una partita importantissima a Sassuolo sabato, poi avremo il ritorno a Barcellona, chiaramente sappiamo che sarà difficilissimo ma adesso dobbiamo dar seguito a una serata del genere. Ultimissima, lei in conferenza stampa ha parlato di una scintilla, ecco questa può essere la scintilla giusta per tornare ai vostri livelli? Assolutamente, è una serata importante che volevamo regalare alla nostra società, ai nostri tifosi, ce l'abbiamo fatta ma deve essere l'inizio, deve essere una serata che ci deve dare tantissima autostima perché abbiamo un futuro pieno e denso di partite. Grazie mille Mester. Grazie a voi.